Buongiorno traders, sono le 7.37 del 18 dicembre 2023, pochi minuti fa vi ho inviato nel canale Telegram pubblico, che vi lascerò anche qui sotto in descrizione, vi ho lasciato quelle che sono le analisi riguardo a euro, bitcoin, sp e euro, quindi come ogni mattina, e dato che ieri, ovvero domenica, vi avevo chiesto se potessero interessarvi altre live di questo tipo, dato che sul canale ce ne sono già un paio, allora ho detto, bene, registriamo, oggi che è lunedì, vediamo un po' l'apertura, vediamo un po' cosa succede, adesso stavo sistemando un po' il mio setup, infatti come vedrete dalle schede aperte, credo si vedranno insomma, mi sto impostando quello che è il mio setup a livelli di grafici, e vediamo un po', ok, a livelli di grafici, ho praticamente, diciamo, su una schermata google, quella che è la schermata investing.com, perché mi permette gratuitamente di avere, diciamo, 4 grafici in contemporanea su uno schermo, e in particolare io l'utilizzo per vedere i grafici, in questo caso di euro-dollaro, dato che è quello che io trado, di vedere euro-dollaro in differenti time frame, per vedere un po' come è impostato in tutti i differenti time frame. Abbiamo praticamente una situazione daily, in cui, anzi non daily, nelle 4 ore, insomma, time frame H4, che il prezzo era sceso pesantemente scorsa settimana, in particolare venerdì, oggi è lunedì, venerdì, in realtà era prima salito nella sessione di Londra, e poi si è riassorbito, e si era mangiato gran parte della discesa durante la sessione di New York, praticamente. Quindi adesso vediamo che invece ha aperto subito positivo, e abbiamo una situazione long, per quelli che sono i miei trigger e i miei bias, su circa 3 time frame, su 4 che io visualizzo. Quindi penso che avremo bias long. A livello di news, vedendo il calendario economico, non abbiamo nulla di troppo lineamente, quantomeno fino alle 10, però non dovrebbe interessarci più di tanto. Dopodiché vediamo un po' come siamo messi in situazione, scambi, io generalmente do un'occhiata un po' sommariamente ai volumi scambiati, senza scendere troppo nel dettaglio. Utilizzo ogni tanto quello che è il profilo volume ancorato, di cui abbiamo parlato anche sul canale, quindi vi rimando a quello, che si avvicina abbastanza a quello che magari uno vedrebbe sui futures, però appunto ci possono essere piccole differenze, io lo guardo più come conferma del mio bias, insomma. Adesso non lo vedrete a schermo perché vi sto registrando la parte di schermo della Metatrader dove andremo ad operare, mentre su quest'altro schermo che è un po' più piccolo ho appunto tutta una serie di informazioni che mi interessano, tra cui anche poi il mio trading journal, quindi l'Excel, che può essere che nei prossimi giorni vi condivido un aggiornamento, come già vi dissi, nel canale. Direi che abbiamo fatto più o meno un check completo di tutto quello che dovevamo vedere. Qui siamo sul time frame M5 sulla Metatrader, che è quello che mi serve facendo scalping. Invece qui poi, come vi ho detto, vedo gli altri time frame. Allora, per ora si sta confermando la situazione long, la direzionalità long non ha permesso praticamente a nessuno di entrare long. Vediamo un po'. Sto vedendo un po' i vari time frame. Diciamo che, per quanto riguarda Euro-Dollaro, quello che farò in questo momento è aspettare qualche cambiamento a grafico. Quindi, dato che al momento il mio bias è long, o aspetterò un ritrasciamento su cui puoi andare long, oppure, appunto, vedrò se invece ci sarà un cambiamento di bias per valutare eventualmente degli short. Però, appunto, per ora abbiamo conferma dei long e, infatti, lo stiamo vedendo anche dal prezzo che sta continuando a salire. Quindi, aspetterò più che altro un cambiamento di qualche tipo sul grafico, qualche movimento, un po' di volatilità, insomma, che ci piace. E, per me dire, di impostare qualche trade, insomma. Vediamo un po'. Magari in alcune fasi vi velocizzerò, diciamo, i buchi, i momenti di vuoto. Perché, ovviamente, nonostante io faccio scalping, generalmente faccio un paio di operazioni al giorno, che diventano alle volte anche quattro se ci sono delle opportunità nella sessione di New York. Però, la maggior parte delle volte, trado l'apertura di Londra. Ho notato che quella che trado di più è che mi dà i trigger che poi mi piacciono. Ma questo è dovuto anche al fatto che, quando abbiamo un'apertura di sessione, abbiamo l'opportunità di entrare, magari, in una tendenza che perdurrà poi per tutta la sessione, generalmente. Come, ad esempio, come è stato venerdì, che, appunto, euro-dollaro nella sessione di Londra aveva fatto delle sparate a rialzo, e, invece, nella sessione di New York si era rimangiato completamente tutto. Quindi, quello che è il bias che noi abbiamo la mattina, quindi, deve sempre andare long. Dicevo, quello che è il bias, magari, che abbiamo la mattina long, nel pomeriggio, con la sessione di New York, potrebbe diventare un bias short. Quindi, attendiamo un po' qualche livello interessante, insomma. Vediamo un po' che inizia a esserci qualcosa di interessante. Vediamo se abbiamo un ritrasciamento. Diciamo, la zona di mio interesse, per un'eventuale long, potrebbe essere questa. Questo perché, vedendo anche un po' i volumi, vedendo un po' la situazione, potremmo avere, potremmo avere, all'apertura, potenzialmente, un ritorno a questo volume qui, questi livelli qui, che, tra l'altro, sono i volumi superiori. Abbiamo avuto, diciamo, un breakout, quindi, da qui in su, di quella che è stata la sessione, praticamente, notturna. E poi questo breakout è stato accompagnato da volumi. Quindi, o ci sarà un ritorno qua per poi ripartire, oppure, se invali da questa zona, potrebbe esserci un cambio di tendenza per poi, magari, andare a pescare un po' questi minimi qua. Anche se, forse, ci sarà più una situazione long, piuttosto. Ovviamente, qui conto live. Non so se vi censurerò o meno il broker. Nel caso troverete sempre in descrizione quello che attualmente sto utilizzando, insomma. E qui sotto, dove ci sono le operazioni, penso che ve le censurerò, perché ci sono delle operazioni un po' di swing. E vorrei evitare che vengano copiate, insomma. Sono più per il capire il concetto, come operare da soli, che per il copiare, semplicemente, insomma. Anche se, a riguardo, potremmo anche, potrei anche pensare a qualche format e fare qualche piccola challenge per mostrare un po' anche la gestione del denaro. Quindi, in questo caso, ovviamente non vi mostrerò gli importi, vi mostrerò il trade. In modo tale che non abbiate un po' di bias quando andrete poi ad operare voi, perché immagino che questo video lo vedranno anche gente magari alle prime armi che potrebbe pensare di, magari, replicare le stesse cifre con conti sproporzionati. E questo non va bene. Infatti, di questo ne parlo spesso sul canale. Quindi, se seguite approfonditamente un po' tutti i video che pubblico, ho parlato varie volte dell'importanza di avere un certo tipo di capitale, un certo tipo di leva, come questo influisce sia sull'operatività e sia a livello emotivo, insomma. Il prezzo qui si è un po' fermato. Vediamo se finalmente arriva da una rostra e se ci permette di aprire qualche bella operazione. Vediamo un po'. Ovviamente spesso capita che non apro operazioni perché non avviene il il mio trigger di entrata, no? Adesso non saprei se pubblicare questo tipo di contenuti anche quando questo trigger non avviene e quindi se può esservi utile vedere quantomeno il ragionamento che c'è dietro tutta la preparazione. Magari lo farò una volta e poi quando e se capita e mi scriverete sotto nei commenti se per voi poi se è interessante lasciare questo tipo di contenuto o meno. Ovviamente se decidessi di e questo è vincolato ovviamente al tempo che posso dedicarci un conto è durante le vacanze natalizie insomma e un altro conto è mentre sono in sessione devo dare degli esami mi diventa difficile registrare questo tipo di contenuti sia per la gestione del file sia perché alle volte neanche opero proprio perché se inizio ad operare tolgo dell'euro allo studio insomma e quindi opero molto meno quando sono in sessione insomma e quindi dicevo se decisessi di creare tra virgolette di crearlo come format e quindi portarlo non dico quotidianamente ma quasi allora in quel caso forse anche più senso lasciare il contenuto anche se magari non si sono aperte le operazioni insomma però vediamo vediamo mi farete sapere voi nei commenti insomma tanto io a prescindere li registro quindi tra pubblicarlo e non pubblicarlo mi cambia poco insomma però avendo fatto il sondaggio sul sul canale telegram e avendo visto insomma che a voi interessa proprio vedere la gestione in generale quindi come come vado a impostare il tutto molti poi si diciamo vedono effettivamente le differenze che ci sono con la propria relatività che può essere sia a livello emotivo sia a livello di ragionamenti sia a livello di pazienza perché potrebbe passare un'ora e non aprire operazioni e secondo me questo può essere importante perché specialmente se siete all'inizio avete un po' quella fumo e avete un po' quella tendenza di aprire operazioni a caso magari siete qui e dite vabbè apro short anche se non non ha senso il vostro trigger non vi dice di entrare short sempre che abbiate un trigger o magari operate ogni volta a caso o come dipende mettendo magari stop loss e profit a caso diciamo questi sono gli errori comuni invece rendersi conto che anche un'operazione al giorno poi ovviamente dipende da che tipo di operatività stiamo parlando ma questo può portare comunque i suoi frutti se ragionata nel nel lungo periodo perché molti puntano a fare chissà quali percentuali ma vi assicuro che già fare un 50% nell'arco di un anno è tanto quindi e trasformate questo 50% sul vostro conto cioè in base a che conto avete e lì capite anche la convenienza o meno di operare con un certo capitale o meno se operate con 1000 euro stiamo parlando di guadagnare in un anno 500 euro l'ordi perché su quelli dovremmo pagare anche il 26% di tasse questo quantomeno se siete italiani avete residenza in Italia insomma e quindi all'inizio potrebbe avere senso conti piccoli diciamo per fare pratica anche se allo stesso tempo questo cria dei bias immensi dovuto proprio al capitale ma di questo ne abbiamo parlato già un sacco di volte perché si punta a fare quanto una persona razionale farebbe con un conto magari da 10.000 euro lo si vorrebbe fare con un conto da 1000 e capite che questo non è materialmente possibile e quindi vi porta sempre a rischiare di più quindi può avere senso un conto piccolo per imparare purché si abbia coscienza del fatto che non guadagnirete chissà quali soldi ma state imparando in quel momento dopodiché potete fare l'upgrade o una prop magari visto che adesso non ci sono neanche limiti di tempo quindi un modo per esercitarvi con capitali ampi e quindi che vi permette di imparare a gestire un certo tipo di capitali e vi toglie un bias un po' del capitale piccolo sostanzialmente e quindi che ne so con tipo 100 euro 150 euro prop da 10.000 euro e frate pratica con quello magari e poi magari passare a conti reali insomma più sostanziosi insomma che vi diano una soddisfazione diciamo a fine anno ovviamente dopo che vi siete creato un certo tipo di edge statistico il prezzo si inizia a muovere sono le 8 la candela delle 8 è questa quindi ci aspettiamo un po' di di volatilità adesso un altro esercizio che consiglio sempre è quello di qualunque sia il conto che sia una demo un conto reale piccolo grande che sia il primo step da superare è non bruciare il conto quindi fare la cosiddetta survival challenge in cui quanto meno cercate di tenere quel conto facendo almeno che ne sono operazioni al giorno e cercando di non bruciarlo quello è il primo step il secondo step è pensare a come invece chiudere in in positivo insomma e quindi là fare un po' back test e forward testing per vedere cosa va se sono le vostre emozioni se è la strategia perché ci sono numerosi infattori che poi influenzano l'operatività insomma quindi ci vuole un po' fino a quando non arrivate a creare un vostro ecosistema in generale qualcuno potrebbe dire Giacomo perché se avete visto che c'era congestione non hai aperto short fino alla zona blu beh perché non banalmente il mio bias al momento è lungo abbiamo una tendenza di breve perché qui siamo su 5 minuti ma anche su 15 minuti siamo messi così realzista e operando nel brevissimo è quella che mi interessa ma in realtà se poi volessi vedere il daily anche lì la struttura è realzista quindi ci sono un po' di cose che mi chiamano mi danno maggior probabilità se apri un'operazione long piuttosto che short insomma quindi aprire uno short magari ti va anche in profitto ma questo lo potremmo sapere solo dopo che il creed si verifica e invece noi dobbiamo ragionare in termini di probabilità prima di aprire un'operazione no quindi aprire uno short per poi magari vedere una sparata rialzo non è il massimo invece attendere un livello più interessante per entrare in rong e cavalcare quella che potrà essere la tendenza guidata al momento dai volumi anche potrebbe essere interessante adesso adesso è iniziata ad aumentare la barra dei volumi si vede che sono iniziate le 8 e adesso vediamo a che fa il prezzo potrebbe in questo caso sia fare una sparata rialzo proprio perché stanno entrando volumi sia scendere però quello che mi interessa è questa zona qua perché c'è un cluster di volumi interessante c'è appunto ritorniamo nel nel range appunto in notturna praticamente abbiamo dei di livelli diciamo di supporto insomma un po' di conferme e poi oltre a quello che e poi il trigger di entrata quello è personale ovviamente ecco la volatilità che arriva hanno continuato a entrare a volumi intorno agli 1.091.75 adesso il prezzo sta dando espressione di rialzo però tendiamo perché siamo in livelli in cui potrebbe ancora ritracciare arrivare a testare queste zone qua prima di continuare la salita vediamo se adesso di qua c'è un barrio sublimento non è sceso sbilanciamento all'opertura e poi vediamo cosa succede sui livelli che ci siamo segnati vediamo vediamo quanto forte ci arriva perché se iniziamo a vedere che la direzione di ta short è forte quindi che potenzialmente c'è un cambio di direzione valutiamo bene insomma diciamo che il vantaggio di fare trading indiscrezionale e quindi con regole che ti permettono un certo tipo di flessibilità pur rimanendo all'interno del trading plan rispetto a un trading system monbot o comunque strategie meccaniche ti permette di fare valutazioni che si spera insomma aumentino il il tuo risultato il tuo rate il tuo rischio rendimento e come ad esempio in questo caso nel senso che se euro dollaro mi arriva in zona qui magari un trading system aprirebbe long in automatico senza contestualizzare se invece noi vediamo che euro dollaro scende pesantemente da questi livelli valuterei bene se aprite un long effettivamente però adesso vediamo un po' e quindi questo ci permette di scremare dei segnali che magari se aperti insomma meccanicamente porterebbero a una perdita piuttosto che a un guadagno ovviamente bisogna qui metterci del nostro nel senso che bisogna essere bravi bisogna aver visto parecchie volte i grafici bisogna avere anche certe volte le giuste intuizioni e questo è fondamentale pur rimanendo la strategia la stessa e infatti poi ve lo condividerò insomma ne parleremo in un altro video ho creato un file excel in cui voi scriverete le operazioni che fate normalmente insomma e in parallelo verrà creato in automatico un file excel che vi dirà in realtà sarete voi a scriverlo però si compilerà in automatico dovrete scrivere delle cose vi dirà se un trade magari che avete chiuso che ne so a break even o a break even o avete chiuso anticipatamente il profitto o avete chiuso in perdita ma una perdita inferiore a quella che avreste avuto con lo stop loss in automatico potrete segnarvi diciamo se invece quel trade fosse stato in modalità set for get e quindi avesse preso stop loss e take profit e quindi vedere dopo un tot numero di trade se l'operatività in cui ci mettete del vostro indiscrezionale ovvero tagliare una perdita oppure prendere maggiore profitto in un certo contesto situazioni di questo tipo vi permettono di essere più efficienti rispetto a una metodologia set and forget quindi ad esempio se io apro adesso long qui su questi livelli e lascio così com'è quindi con stop loss e take profit impostati avrò un certo tipo di risultato se invece per ragioni discrezionali alla fine che vedremo vediamo in corso d'opera decido di chiudere questo trade prima che lo stop loss o il take profit venga preso o se decida ad esempio di allargare il take profit di questo tipo avrò invece un altro tipo di risultati se su 50 trade vedete che diciamo l'approccio discrezionale cioè avete le giuste intuizioni allora potreste dire va bene allora mi concedo questa discrezionalità se invece però vedete che questo approccio questa discrezionalità aggiunta alla strategia invece vi porta a un risultato peggiore del set and forget allora magari vi conviene lasciare una volta che avete impostato i trade e lasciare che il prezzo prenda lo stop loss piuttosto che il take profit e questa può essere una cosa interessante sia per vedere voi stessi le scelte che fate se sono razionali innanzitutto o guidate da emozioni se poi si rivelano giuste o meno e se invece piuttosto affidarvi completamente alla strategia vi rende di più questo può essere un'analisi molto interessante a mio parere perché spesso c'è chi opera prevalentemente con set and forget e poi magari dice cavolo però effettivamente avrei potuto tagliare questa perdita o roba del genere magari non lo fa perché pensa di uscire fuori dal dal piano quando invece potrebbe avere insomma risultati in media migliori e c'è chi invece opera al 100% indiscrezionale in cui magari come dite si trova in in situazioni che appunto essendo 100% discrezionale o non sa come comportarsi o comunque non sa se effettivamente poi in media ha ragione perché se non ne tenete traccia di questo non potete saperlo appunto e quindi secondo me potrebbe essere una cosa interessante da valutare della propria strategia insomma del proprio metodo qui non crea ombra quindi immagino che se la vada a rimangiare infatti generalmente questo è un altro tip che avevo detto anche sul canale telegram insomma che difficilmente abbiamo una candela senza ombra cioè la maggior parte delle candele che voi vedete hanno un minimo di ombra no questa è un'eccezione qui probabilmente se la va a mangiare quindi tutte le candele che noi vediamo specialmente se su time frame un po' più più alti difficilmente non hanno le ombre quindi se vedete ad esempio come in questo caso una candela che apre subito al rialzo senza aver creato ombra e magari questa è una zona di interesse per voi short secondo la vostra strategia potrebbe essere un bel trigger eventualmente di di entrata ovviamente dopo che l'ombra viene creata come in questo caso potrebbe o continuare a scendere oppure risalire però appunto generalmente si va alla candela a cercare l'ombra proprio perché quando apre subito su un certo livello e spara subito che ne so al rialzo al ribasso perché tra tra quell'apertura tipo in questo caso tra questa apertura e la chiusura della candela precedente ovviamente se non si fosse andata a creare l'ombra ci sarebbe stato un gap di conseguenza quindi che generalmente il mercato cerca liquidità e quindi va a colmare perché il mercato si muove per liquidità il prezzo sale se ci sono se la gente insomma compra a livelli sempre più alti e scende se c'è gente che vende a livelli sempre più più bassi insomma 8 e mezza generalmente noto che diciamo tra le 9 barra 10 avvengono effettivamente i movimenti che poi mi interessano e il posizionamento avviene intorno a 8 e mezza 9 quindi vediamo adesso scusate decide di fare sto euro dollaro se continuare a sparare rialzo o meno quindi se ci permette di entrare in questo tridomino diciamo che quantomeno per ora abbiamo conferma del bias direzionale long il fatto è però entrare poi a mercato e prendere questa direzionalità e iniziamo ad allontanare parecchio da dalle eventuali zone di entrata a momento a grafico non c'è nulla che da strategia mi permetta di entrare abbiamo superato il cluster dei volumi che ci interessavano prima di aspettare un altro po' vedere che succede ma qui mi sa che probabilmente la tendenza continua a rialzo e non ci permette di entrare vediamo tra l'altro la candela daily del rotolloro apre senza ombra inferiore quindi se oggi dovesse chiudere senza andare a riprenderla quindi senza andare a ripescare praticamente i livelli segnati minimi sarebbe gran segno di tanta direzionalità rialzista forte direzionalità rialzista se non andasse a riassorbire quella zona là e quindi potrebbe essere che questa settimana potremmo vedere euro dollaro salire ancora insomma vedremo anche perché nel caso vi terrò aggiornati sempre sul canale telegram aspettiamo qualche altro minuto per vedere un po' che succede io poi generalmente in fasi fortemente direzionali come queste difficilmente poi effettua delle entrate proprio perché come in questo caso non non mi permette di entrare e delle volte se si verificano poi i trigger essendo fasi molto volatili e molto direzionali alle volte evito anche di entrare perché continua quella direzionalità e quindi diventa più probabile che lo stop loss venga preso insomma diciamo che mi piace più operare in queste fasi qua insomma con un mercato un po' più strutturato vediamo proviamo ad aspettare qualche altro minuto e vedere che succede magari questa live comunque ve la lascio vi lascio questa registrazione e così mi fate sapere fin da subito se eventualmente le live nonostante non ci sia magari in operatività che in realtà questo fa parte dell'operatività nonostante non ci siano operazioni e il fatto di aspettare ragionare sul grafico farsi delle idee anche questo fa parte dell'operatività l'attesa il giornate in cui non si opera sono fisiologiche so che per chi inizia perché alle prime armi pensa che bisogna aprire almeno un'operazione al giorno ma questo perché è un errore che facevo anch'io anni fa infatti vi ho raccontato anche un po' la mia storia nell'ultimo in uno degli ultimi video e anch'io avevo un po' questo bias che dovevo aprire non so neanch'io quant'è quante operazioni al giorno aprivo ma sicuramente più di tre al giorno aprivo facevo l'errore di seguire un sacco di pair invece adesso seguo solamente euro dollaro se non si verifica il trigger non ha proprie azioni se non si verifica diciamo un trigger sensato se non ci sono situazioni per me interessanti semplicemente non opero il fatto di non operare in certi casi è un guadagno il fatto di non aver perso eventualmente soldi so che è difficile per chi inizia perché ha un po' quella fuma e quel pallino di pensare di fare chissà quanti soldi e quindi tende a overlottare a overtradare quindi si trova a fare trading per tante ore di fila situazioni di questo tipo mentre io preferisco dedicarci quelle che ne so la mattina quelle due orette un'ora due ore dipende se si verifica un trigger e basta se si verifica un qualcosa apro l'operazione altrimenti niente anche perché nessuno ci corre dietro poi abbiamo anche la sessione di New York eventualmente quindi nella sezione americana anche lì preapertura mi metto al grafico e vedo un po' se si verifica un trigger e in questo caso in quel caso se si verifica entro altrimenti anche lì lascio perdere cioè può essere che capita che ci sono giornate in cui non si apre operazioni questo magari per alcuni sembra strano sembra una cosa ma la realtà è questa molti vedono il trader come una persona certo ovviamente ci saranno ci sarà gente che ha strategia che ha diciamo una frequenza maggiore di operazioni se uno scende magari al time frame un minuto oppure un trigger che si verifica spesso allora in quel caso può essere che effettui un sacco di operazioni l'importante è vedere a fine anno quale è il risultato perché allo stesso tempo vi dovete chiedere sì ok magari uno apre 10 operazioni in un giorno però ha fatto zero cioè arriva alla fine giornata che diciamo profit and loss è zero se non addirittura negativo io preferisco invece in questo caso non aver fatto nessuna operazione e stare comunque a zero quindi tra virgolette meno lavoro perché in realtà comunque alla fine del grafico comunque tu lo guardi ci fai le tue riflessioni sopra penso che la pazienza insomma sia uno degli elementi fondamentali anche nel trading se non siete in grado di avere questo tipo di gestione emotiva e dura all'inizio magari può essere giustificato perché appunto sia le prime armi ma col tempo bisogna farsi un po' un'analisi introspettiva e valutare tutti questi elementi insomma ovviamente poi fatemi sapere se tutte queste riflessioni insomma possono esservi utili ma secondo me sì perché avrei voluto vedere sentire anche io certe cose oppure volete vedere solamente l'operatività cioè vedere operazioni aperte anche se appunto è solo una parte di quello che è l'ecosistema del trader di per sé perché non è solo operazioni anche analisi e anche studio ci sono una serie di fattori che appunto bisogna tenere in considerazione e magari col tempo se decidessi di aumentare un po' la frequenza di queste live quindi di registrare più live di questo tipo magari miglioro anche la la qualità della videocamera da dove mi state vedendo perché adesso per semplicità sto registrando dalla dalla webcam del pc e capisco che non sia il massimo della qualità però appunto penso in questo caso è più importante quello che sentite infatti ho il microfono collegato quindi i ragionamenti e vedere grafici la mia faccia ormai la vedete nei video insomma in HD sta un po' ritracciando vediamo un po' se si ci dà qualche spunto oggi a breve 12 minuti arrivano le 9 e generalmente qualcosa di interessante si va a creare però appunto queste ultime tre sparate al rialzo queste candiere ci hanno allontanato un po' da quella che era la potenziale zona di cui aprire qualche buy quindi capiamo un po' infatti se ci dovesse arrivare anche in questa zona qua in base a come ci arriva potremmo valutare anche qui una una situazione buy vediamo un po' valutiamo mi ha aperto questa candina mi piace perché se adesso scende fino a qua senza ripescare questi questi massimi si crea una buona opportunità long perché in questo modo andiamo a seguire un po' anche quella che è la liquidità perché molti magari sopra questo livello hanno visto queste due candele dicono ok shortiamo e magari mettono lo stop loss qui sopra un po' più sopra insomma e quindi se qui scende su questi livelli ci permette di entrare long noi potremmo andare a pescare mettere il target su questa liquidità seguire un po' la liquidità e il bias direzionale vediamo però voglio che scenda prima che prende poi il massimo poi fatemi sapere nei commenti un po' di vostri ragionamenti considerazioni insomma mi piace sentire anche la vostra come operate se anche voi trovate un po' delle similitudini rispetto a come opero o ragionamenti che faccio io insomma può essere un buon modo per insomma confrontarci tutti quanti avendo questo questi contenuti gratuiti pubblicati qui sopra sul sul canale e i commenti insomma sarebbero utili a questo in modo tale che specialmente perché alle prime armi possa leggere i commenti vedere questo video e capire un po' di più su questo mondo e ovviamente delle volte io faccio dei contenuti anche un po' diciamo forti in qualche modo possiamo dire così perché magari vanno a smontare un po' alcune credenze come ad esempio il video vivere di trading come vivo di trading con una scopertina un titolo ovviamente sarcastico in cui la gente poi va a vedere che cosa significa veramente vivere di trading quando è possibile con quali capitali è possibile farlo quanto ha senso avere quello come unico obiettivo perché ci sono parecchi fattori da tenere in considerazione questo è vero che smontando certe credenze molti magari si allontanano dal trading ma se si allontanano è perché vuol dire che non hanno la passione per i mercati finanziari cioè non gli piace operare ma gli piace solamente l'aspetto economico invece bisogna considerarlo come un lavoro a tutti gli effetti e se ti piace ti dai i suoi frutti insomma ma se non ti piace e cerchi la scorciatoria per arrivare al risultato difficilmente poi il risultato arriva o è consistente insomma quindi tenete sempre bene in considerazione specialmente se siete all'inizio se continuare se iniziare tra l'altro io sono per diciamo la trasparenza sotto questo aspetto cioè sbatto facilmente in faccia quelle che sono le difficoltà che si incontrano ma perché sono io ad averle incontrate in modo tale che una persona che vuole iniziare possa decidere in maniera razionale senza false aspettative e con un minimo di coscienza di quello che si va a fare di quello che andrà a fare perché molti iniziano perché pensano sia un metodo di guadagno come un altro magari anche semplice reputato semplice è semplice l'esecuzione basta un click è vero ma il risultato non è così semplice cioè è un lavoro a tutti gli effetti però ovviamente nel momento in cui si inizia ad avere quell'ecosistema quella quella costanza quel dai suoi frutti è diciamo che se un qualcosa che veramente piace in generale mercati finanziari i risultati poi sono soddisfacenti insomma questa candela mi sta piacendo però deve scendere ancora per poter entrare perché per questo mi passo anche su quello che sarà il mio target perché se io avrò il target qua sopra devo valutare anche dove sarà poi il mio stop loss insomma quindi vorrei che quantomeno mi baciasse un po' la media vediamo è un livello in cui potrebbe subito sparare a rialzo adesso però aspettiamo voglio entrare a un livello migliore di così proviamo allora top loss sotto questa zona qui sale subito a manetta e ci piace vediamo 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 se abbiamo fatto la giocata o meno ci basterebbe basterebbe mi basterebbe un trade è andato bene stamattina dopo tutta l'attesa vediamo un po' la zona è buona mi piace vediamo se appunto ci parte subito sarà interessante diciamo che qui sarebbe un primo target e sarebbe un rischio di rendimento se riprende ripesche al massimo speriamo però potremmo puntare anche a un rischio di rendimento 1 a 2 e quindi prendere un target un pochino superiore vediamo un po' in base a come sale quanto sale se sale vediamo un po' probabilmente rischio per trade uno 0,3% quindi voglio andare molto sul conservativo perché è quello che mi permette di avere un'operatività tranquilla nel senso che se mi prende lo stop loss non mi tocca più di tanto e fa parte dell'operatività insomma lo reputo diciamo un costo di gestione insomma e e comunque quando va a target comunque significa fare o lo 0,3 se prendiamo un rischio di rendimento 1 a 1 oppure uno 0,6% del conto che in un giorno con un'operazione non è neanche male vediamo un po' arriva nella zona sfiora lo stop loss c'è molta volatilità c'è molta volatilità vediamo che succede certo avremmo potuto aprirlo a livello un po' più inferiore però col senno di poi siamo tutti buoni vediamo che succede in questa zona in cui dovremmo avere anche un po' di liquidità a protezione insomma un po' di volumi vediamo se va a ripescare sto massimo o meno vediamo come chiude sta candela sono le 9 motivo per cui abbiamo avuto un po' questa questa volatilità vediamo vediamo se è un livello che regge oppure no in tal caso potremmo rivalutare insomma i livelli che ci siamo segnati prima per aprire un altro long eventualmente vediamo un po' qui abbiamo di nuovo una candela che non ha ombra quindi vediamo un po' come chiude si chiude andandosi a rimangiare un po' questa discesa che ha fatto quantomeno se chiude sopra la media sarebbe interessante stanno iniziando ad entrare i volumi vediamo se se ripiace questo movimento tra un paio di minuti chiude questa candela quindi vediamo un po' in che situazione siamo a chiusura di candela vediamo se questi volumi su questo livello reccono e se abbiamo il movimento che cerchiamo fin sopra al massimo vediamo in queste situazioni specialmente se fate scalping è importante avere un broker discreto insomma quindi che non ovviamente slave page a livello di commissioni situazioni di questo tipo perché appunto può decretare un'operazione che magari ti prende lo stop loss oppure un'operazione che ti sfiora lo stop loss insomma ripeto io mi affido ormai da due tre anni a un broker regolamentato con e mi pagano anche le tasse per conto mio oltre ad avere conti segregati insomma vabbè le info utili poi ve le lascio in descrizione eventualmente vediamo un po' come va questo trade la canella precedente chiude sopra media e questa invece apre sotto media questa è una zona interessante perché abbiamo effettivamente senza protezione un po' di di volumi abbiamo un cluster di volumi è una zona di interesse quindi o di qua c'è un forte rialzo oppure viene invalidata la zona di volumi e quindi inizia a scendere vediamo questa zona sarà interessante per eventualmente un prossimo trade qualora non venisse toccata perché lì si concentrerà un bel po' di volatilità con questo movimento un bel po' di liquidità stop l'ho spreso vediamo un po' se aprire la zona è valida quindi voglio insistere vediamo secondo il trade di giornata appunto come vi avevo accennato in queste ore vengono i momenti più interessanti a livello operativo in questo caso il fatto di andare ad aprire ovviamente a livello inferiore a cui eravamo prima ci permette facilmente di arrivare a un rischio rendimento 1 a 2 e quindi qualora questo trade andasse in profitto insomma chiuderemo praticamente la sessione di trading in profitto e appunto in caso di take profit chiudere la sessione insomma vediamo un po' ops se poi qualora continuasse a scendere insomma abbiamo ancora delle zone di interesse però appunto se continua a scendere poi da questi livelli anche in maniera forte rivaluteremo un po' la situazione per ora mi conf c'è questa zona si conferma di di interesse abbiamo preso lo stop loss di un soffio purtroppo non ho valutato la questione orario non ci avevo fatto caso che mancava poco alle nuve e avendo aperto qui sopra insomma avrei potuto aspettare un po' anche se allo stesso tempo avrebbe potuto portare invece a un risvolto positivo ovvero andare subito a target eventualmente vediamo un po' come si comporta questo quest'altro trade nel frattempo invece ci segniamo la perdita sul nostro trading journal quindi scrivelo allora oggi è lunedì abbiamo fatto il trade intorno alle nove quindi 18 dicembre ok ci siamo segnati sul journal questo trade per tenere traccia poi successivamente e vediamo un po' come si comporta diciamo che vedendo un po' gli altri time frame h4 è interessante h1 m30 il livello a cui siamo entrati è molto interessante vediamo cosa abbiamo abbiamo ancora ovviamente una situazione long sui vari time frame l'unica cosa che tra 46 minuti si avvicinano un po' delle news ad alto impatto quindi vediamo un po' non ci resta che aspettare ancora un po' pensavo di chiudere questa sessione senza operazioni invece siamo a quota due operazioni vediamo come come andare a chiudere diciamo che se anche questo trade non dovrebbe andare allora lascio perdere per la sessione di londra perché in questo caso specialmente poi se apriamo la chiusura in m30 al di sotto di questi livelli inizia a non essere più interessante trovare situazioni long ma piuttosto al massimo girarsi short però vediamo il riscontro di questa zona di interesse insomma in cui abbiamo ancora volumi ho aperto quasi subito l'operazione subito dopo lo stop perché appunto è una zona che ce la siamo segnati prima insomma era di nostro interesse quindi a mente locida è una zona dove abbiamo bevo volumi è una zona in cui appunto il prezzo si ferma e quindi ho voluto subito aprire l'operazione proprio perché da qui può esserci subito un riscontro subito un'esplosione di volatilità e quindi l'ho aperta subito piuttosto che aspettare proprio perché la partenza del movimento potrebbe venire proprio da questo livello insomma però vediamo vediamo come si muove diciamo che mi piace molto la zona di dove abbiamo il nostro target insomma proprio perché era partita subito a ripasso il che potrebbe aver creato un po' una induzione di qualche short del breve periodo e andando a creare un po' di liquidità sopra quei massimi quindi potremmo avere un misto di stop loss stop loss e eventualmente anche sell limit di gente che vorrà entrare short da quei livelli quindi mi piace come zona in cui il prezzo possa andare qui stiamo facendo dei trade che sono a favore di trend quindi vediamo un po' come si muove il tutto l'importante in queste situazioni è questo è possibile se appunto avete degli stop loss che hanno un senso cioè se iniziate se il vostro stop loss è già intorno al 2% inizia a essere difficile avere un certo tipo di gestione sia emotiva sia dei trade insomma quindi vediamo un po' qui ho aperto questa candela senza ombre inferiore che forse va a cercare adesso come vediamo rimane molto su questa zona il prezzo quindi da da questa candela che era partita sono uno due tre quattro candele che rimangono sempre in questa zona quindi potrebbe essere un bel un bel trade l'impostazione mi piace siamo seguendo il bias siamo tranquilli il target è più che ragionevole anche avendo vari time frame abbiamo una bella situazione vediamo un po' il riscontro se iniziano ad entrare un po' di buyers che spengono un po' il prezzo dopo il ribasso insomma diciamo che l'unico errore forse iniziale è quello di essere stati forse troppo affrettati nell'aprire il primo trade però appunto col anno di poi siamo bravi tutti però appunto è sempre bene tener conto un po' delle varie dinamiche successe durante la sessione in questo caso stiamo registrando quindi me la potrò rivedere e vedere quello che ho fatto successivamente ma allo stesso tempo segnandocele sul trading journal e vedendo un po' magari qualcuno potrebbe anche farsi gli screen e metterli nel trading journal e in questo modo ha già un'idea io generalmente invece scrivo direttamente a freddo insomma cioè scrivo a caldo quella che è stata la situazione la dinamica e poi a freddo con calma rileggendo riusciamo a fare un po' di analisi introspettiva e vedere se c'era stato qualcosa che potevamo o meno evitare in caso di uno stop loss in caso di take profit se c'era comunque qualcosa che potevamo andare a migliorare insomma si è appena non ci crederete però si è appena spostato il point of control da questa zona qua a questa zona qua quindi ci conferma la zona di interesse vediamo se questo interesse è lungo oppure short insomma vediamo un po' ovviamente come detto prima i volumi non essendo quelli di sono volumi che vedo su tradingview insomma non essendo volumi appunto centralizzati comunque volumi dei future li prendo molto con le pinze e li prendo solamente al massimo come conferma di quanto sto facendo però il trade appunto sarebbe questo anche senza volumi quindi ci tengo a precisarlo da 36 minuti potrebbe esserci il rilascio di un dato rilevante io generalmente se sono in un trade e c'è il rilascio di un anno ovviamente dipende da quanto rilevante se ci sono i tassi di interesse magari chiudo l'operazione prima o se parla Powell se invece abbiamo news sì rilevanti ma rilevanti solo per per quella valuta e non per l'economia in generale di quel paese allora lascio il trade aperto e vedo perché alcune volte può essere tra virgolette un velocizzare un risultato che sia esso positivo che sia esso negativo delle volte sarà positivo delle volte negativo e in media il risultato insomma dovrebbe essere più o meno nullo se non a mio favore avendo un target superiore a quello che invece è lo stop loss insomma quindi generalmente lascio aperto quindi vediamo un po' come inficerà su questo trade come vedete nonostante sia scalping e siamo su time frame m5 comunque ci mettiamo un po' a fare il trade sia per quelle che livello di stop loss e take profit sia per come il mercato al momento ovviamente perché il tutto è guidato anche un po' dalla liquidità abbiamo adesso la nuova candela da mezz'ora sono le 9.30 tra un'altra mezz'ora ci rilascio del dato vediamo se c'è un po' più entro un po' più di volatilità così da annoiarsi meno siamo vicini al rischio rendimento 1 a 1 più o meno quindi se mi supera gli 1.0 9.2 2.5 quindi da questo livello in poi è potenziale guadagno della giornata in quanto abbiamo perso prima un R che recuperiamo se chiudiamo qua e quindi tutto il resto è poi guadagno questa volatilità ci piace vediamo un po' che succede molto bene vediamo se ci va a pescare questa liquidità che c'è sul massimo a rilascio del dato mancano 25 minuti quindi potrebbe iniziare a influenzare un po' il prezzo adesso mancano 20 minuti a rilascio del dato vediamo un po' come si comporta in questa zona ho fatto una sparata a ribasso vediamo un po' 16 minuti a rilascio del dato speriamo sarà la nostra in realtà di per sé il dato nel brevissimo periodo è relativo nel senso che alle volte il prezzo fa il contrario di quello che dice la teoria quindi reazione tra dato e prezzo insomma quindi nel breve periodo interessa relativamente interessano più nel lungo periodo i dati e quando contestualizzati ovvero se i tassi di interesse aumentano il dato così di per sé da solo e sono una parte dell'informazione va contestualizzato a tutto quella che è l'economia attualmente in quel periodo quindi tenendo conto anche di disoccupazione inflazione insomma tanti altri dati quindi è uno dei motivi per cui decido di lasciare il trade aperto quando ci sono anche dati rilevanti purché non siano appunto i tassi di interesse l'inflazione parla Powell ad esempio in quel caso evito vediamo che c'è comunque un po' più di volatilità proprio perché mancano 15 minuti al rilascio del dato invece quando inizio l'operatività la prima cosa che faccio ovviamente è vedere il calendario economico se ci sono notizie rilevanti o meno se ad esempio la mattinata è piena di notizie rilevanti a quel punto evito proprio di operare però se c'è una notizia diciamo ad alto impatto definita ad alto impatto in orari in cui magari generalmente non ho però perché generalmente la mia operatività termina intorno alle dieci e mezza massimo generalmente poi dipende appunto da che trade ho in macchina quindi ok stiamo rimbalzando parecchio tra questi livelli quindi 10 9 22 5 è il livello dell'apertura del prezzo abbiamo comunque una zona di interesse volume alti quindi è da qua che si decide la partita insomma quindi in base a verso dove la direzionalità rompe avremo il nostro risultato insomma vediamo un po' l'impostazione c'è ancora quindi non ci resta che aspettare quello che è il riscontro del del mercato mancano 12 minuti al rilascio del dato si vede che è lunedì generalmente a quest'ora avremmo avuto già un riscontro da parte del prezzo per quanto riguarda il trade abbiamo un mercato un po' lento abbiamo avuto giusto un paio di accenni con un po' di volatilità ma non si è andata ancora a strutturare una direzionalità definita per la giornata e infatti io generalmente cerco di sfruttare questo tipo di situazioni per cercare insomma di cavalcare la direzionalità della sessione di Londra perché alla fine sono già le 9.48 e quindi stiamo operando di per sé ci stiamo prendendo praticamente gran parte della sessione di Londra insomma che è quella più liquida per quanto riguarda il forex 13 minuti abbiamo pure la la chiusura di candela oltre che rilascio del dato la chiusura di candela in H1 intendo sono le 9.49 vediamo un po' come vedete c'è tanta pazienza il fattore pazienza nel trading e oggi in particolar modo diciamo mi piacerebbe vedere una chiusura su su questo livello come conferma e poi abbiamo quest'altro livello che è il nostro livello di attenzione insomma i due range in cui ci troviamo adesso le 9.50 siamo ancora in gioco live lunga oggi cercherò di velocizzare insomma le parti un po' o dove non parlo comunque dove non succede nulla di interessante al grafico in modo che sia un po' più fruibile 7 minuti sarà importante vedere la chiusura della candela oraria e l'apertura della nuova candela che che si andrà formando perché è quella che probabilmente ci ci darà un segnale o comunque un riscontro di questo trade insomma fra 5 minuti abbiamo lo scocca che è delle 10 quindi rilascio news più apertura della nuova candela oraria che sarà quello che ci interessa a noi a breve abbiamo la nuova candela per me è sempre molto importante vedere sia come chiudono le candele orari sia come vanno ad aprire specialmente se poi come in questo caso abbiamo anche il rilascio di un dato di mezzo che tra qualche secondo verrà pubblicato vediamo un po' mi aspetto un'esplosione di volatilità nei primi 10 minuti dopo l'apertura della nuova candela quindi tra le 10 le 10 le 10 ecco la nuova candela mi aspetto di avere un risultato su su questo trade insomma ci sono trade che alle volte durano 5 10 minuti e trade che come in questo caso prendono un po' di più la mattinata insomma vediamo come si comporta su questi livelli vediamo un po' se c'è un risorbimento di questa candela che ci viene contro vediamo se conto un po' di presa di liquidità sotto sto minimo per poi darci un un input a rialzo o min qualora ovviamente mi invalidasse questa zona e quindi questi livelli qui ci confermerebbe un cambio di trend insomma allora questa questa candela non è stata accompagnata particolarmente da da volumi quindi potrebbe essere plausibile insomma una ripresa rialzo con con la prossima candela che aprirà breve vediamo come chiude questa nel frattempo e capiamo un po' come volgerà a termine questa operazione io sono fiducioso nel senso che abbiamo un buon setup il setup in cui siamo adesso sin da subito mi è piaciuto molto specialmente perché abbiamo appunto come target una potenziale liquidità non indifferente che avrebbe avrà portato probabilmente molta gente a vendere o a comunque considerare quel livello come potenziale livello di vendita essendo noi compratori appunto la nostra le nostre controparti sono lì sopra e quindi avendo un po' per la legge della domanda dell'offerta potenzialmente potremmo tornare su quei su quei livelli e appunto in modo tale che il mercato quindi il prezzo faccia incontrare domande offerte la candela su time frame superiore ci piace abbiamo avuto appunto una candela in M5 che si era assorbita quasi del tutto è la nuova candela che apre subito senza ombra e se appunto questa candela dovesse chiudere rialzista senza ombra mi dà segnale che effettivamente siamo nella direzione giusta insomma vediamo un po' interessante questo movimento che c'è stato diciamo diciamo che chi ha le prime armi probabilmente già vedendo questa candela sicuramente si sarebbe spaventato o si sarà spaventato insomma e chiude in in loss senza pensare che appunto questa potrebbe essere una presa di liquidità proprio perché qui si era si era creato un po' questa questa resistenza prima bucata e che ci ha dato la liquidità ci sta dando la liquidità necessaria per andare a pescare livelli più alti la direzionalità e la volatilità c'è ed era quello che mi aspettavo insomma con l'apertura della nuova candela quindi vediamo come come si muove il movimento è buono molto buono molto buono inoltre stiamo andando tutti i livelli a di sotto di questo di prezzo hanno molti scambi cioè abbiamo un volume profile pieno qui sotto mentre tutte le zone qui al di sopra hanno pochi scambi nella sessione di oggi intanto dall'apertura dei mercati adesso la situazione è questa quindi arrivare a prendere questo massimo insomma potrebbe essere possibile vediamo un po' tra due minuti abbiamo la chiusura di questa candela e l'apertura dell'anno quindi se dovesse chiudere sopra la media potrebbe essere un buon un buon segnale insomma vediamo un po' un minuto questa candela va a cercare un po' l'ombra che non ha creato all'inizio vediamo se la trova chiude chiude così sotto media vediamo come si comporta questa questa nuova candela se continua con questa volatilità questa direzionalità abbiamo qui un nostro livello di piccolo livello di liquidità di di volumi scusate che si è andato a creare ed è quello che ha spinto queste due volte il prezzo a ribosso vediamo però se i buyers che potenzialmente stanno entrando adesso perché abbiamo volumi in rialzo però contrastano questo chi sta shortando su questi livelli così sembra così da portare il prezzo a a salire vorrei vedere il prezzo spingere subito verso il target insomma non appena mi supera questo questo livello proprio perché siamo praticamente in trend è una zona quella di interesse dove sappiamo che potenzialmente ci ci può essere una liquidità ed è quello che potrebbe farci chiudere la giornata o quantomeno la mattinata soddisfatto di soddisfatti di quanto ho fatto perché poi appunto ci porteremo a casa comunque un profitto in quanto questo rischio rendimento 1 a 2 questa operazione quindi già adesso in realtà siamo in profitto qualora chiudessimo perché siamo a un guadagno superiore alla perdita che avevamo fatto prima il prezzo sale ancora andando a cercare il massimo vediamo come chiude questa candela diciamo che questa è una situazione interessante interessante in cui stiamo vedendo tutte le varie dinamiche che un trader potenzialmente subisce mentre fa trading quindi siamo trovati ad affrontare uno stop loss siamo trovati ad affrontare lunghi periodi di pausa ci siamo trovati a un secondo trade che rischiava di andarci contro siamo trovati a vedere uno stop loss sfiorato all'inizio con con lo scorso trade abbiamo visto quella che è la gestione emotiva di di tutto il trade di tutte le fasi quindi in maniera trasparente vediamo tutto quello che è il background del trader come vi dicevo appunto sono le 10 e 13 e mi aspettavo appunto un riscontro i primi 10 minuti dall'apertura della candela e adesso voglio vedere come chiude questa se ci arriva almeno a questo livello qua per rendere un po' di profitto vediamo un po' e io spero che a prescindere questo video vi sia utile per entrare nell'ottica per vedere come veramente si opera in background che quindi non è faccio trading dove voglio quando voglio in spiaggia col telefonino ma è fare un trading in maniera responsabile direi che portiamo a casa chiuso in profitto questo trade ce lo segniamo sul nostro trading journal e direi che chiudiamo praticamente questa sessione in profitto e spero che ovviamente a voi questo tipo di live possano essere utili abbiamo fatto una live molto molto lunga abbiamo fatti diversi ragionamenti che spero possano diciamo essere utili a voi ma io credo di sì perché abbiamo affrontato diverse fasi durante questa mattinata insomma e sto scrivendo un po' giorno durante questa mattinata quindi credo che possa essere qualcosa di utile per voi e se si fatemelo sapere con un like un commento e noi ci vediamo al prossimo video vi ricordo come al solito di iscrivervi se volete più contenuti di qualità e più contenuti come questo ovviamente ho chiuso prima questo trade perché preferisco portarmi a casa il profitto che si è andato a creare probabilmente andrà a prendere questo livello qui ma appunto sono già le 10.16 direi che possiamo chiudere qui il live trading poi vedrete voi stessi quale sarà il riscontro successivamente insomma niente ragazzi noi come al solito ci vediamo al prossimo video